Si è fatto tardi, che ne dici? Andiamo? Ragazzi, sapete che il paese girano voci strane? Che voci? Non dirmi che un tipo tosto come te riesce ancora a farsi spaventare da queste cose. Vabbè, io intanto ti pago, dai. Pago questi due amari. Ciao Ernesto, ci vediamo domani, va. A meno che non sparesse ancora qualcuno. Ciao. Ciao.